Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere il mio modo di dipingere, che utilizzo non spesso. Però è come interpreto io un po' il lasciare andare l'acqua, perciò pronti, pazienza, via. Ho fatto un abbozzo di roschitto, praticamente è una zona tipo come lagunare, molto leggero, molto fluido, senza troppi rischi, troppi particolari. Mi sono seduto anche in età tranquilla, farò una cosa molto delicata. Questo è il famoso indaco della Nila, che tutti mi chiedono di dire com'è. Io lo faccio vedere. Direi che ci siamo. Una bella intensità. Grazie. 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 Grazie.